Grazie a tutti, benvenuti ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un'alve Maria a tutti, da Leonardo Maria Pompei, bentornati sulle frequenze della radio per una nuova puntata di Spazio Giovane. Chi parla come sempre è Leonardo Maria Pompei e siamo alla puntata numero 44 del ciclo di Catechesi dedicate al dono della Divina Volontà. Oggi affronteremo un bellissimo scritto, siamo nella sezione che parla dei brani più importanti su questo argomento, ormai ci siamo da diverso tempo e penso che tra poco, essendo talmente tanti dovremmo necessariamente fare un piccolo stop e fermarci per poi concludere questo ciclo di Catechesi salvo poi tornare eventualmente su qualche argomento che dovesse suscitare l'interesse e l'attenzione da parte degli ascoltatori. Oggi vedremo un argomento molto molto bello, molto forte come sempre, perché ci sono dei passaggi in queste Catechesi che sono veramente straordinarie. Vedremo come l'anima che vive nel Divinvolere ha in sé una sorta di presenza reale, vedremo che i termini sono abbastanza forti e sconvolgenti di Gesù, come dire, in una maniera molto analogica e non molto dissimile, anzi per certi aspetti anche più intensa, perché appunto vissuta in una creatura ragionevole, non in una materia inerte come sono le specie eucaristiche, c'è appunto una sorta di analogia con la presenza che Gesù ha nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, quindi è qualche cosa di veramente forte e preferisco, non evitare di perdermi in troppi preamboli introduttori e concentrarmi eventualmente meglio nel commento di alcuni passaggi di questo scritto, passare subito alla lettura. Siamo sempre nell'indimenticabile volume sedicesimo, 5 novembre del 1923, il titoletto di questo capitolo è abbastanza articolato ed è il seguente. Gli atti fatti nel Divinvolere formano gli accidenti che imprigionano Gesù nell'anima e vi formano la sua vita reale. La mia volontà racchiude tutti i sacramenti e gli effetti di essi. La santità del vivere nel mio volere è una santità del tutto differente dalle altre santità. Non è altro che la vita dei beati nel cielo che siccome vivono nel mio volere, in virtù di esso ciascuno mi ha in loro come se fossi per uno solo, vivo e vero e non misticamente ma realmente abitante in loro. Ecco penso che già se uno dovesse commentare questo titolo, sappiamo non essere la visione di Luisa ma composto da coloro che ne hanno curato la pubblicazione, una catechesi di un'ora si potrebbe fare tranquillamente. Vedremo che sono degli stracci tolti proprio dal contenuto di questo di questo capitolo per cui passiamo alla lettura. Mi sentivo oppressa per la privazione del mio dolce Gesù con l'aggiunta che il confessore, siccome non aveva avuto la fiducia di aprirmi e perché cattiva, mi aveva negata l'assoluzione. Oggi avendo fatto la santa comunione, mi abbandonavo nelle braccia del mio dolcissimo Gesù e gli dicevo, amore mio aiutami non mi abbandonare, tu sai in che stato mi trovo per la tua privazione, eppure da parte delle creature invece di aiuto mi aggiungono pene a pene, sicché senza di te non ho più nessuno, o con te o solo a piangere la mia dura sorte ad averti perduto. Questo dovrebbe spingerti maggiormente a non lasciarmi sola, almeno per fare compagnia ad una povera abbandonata che vive morendo nel suo duro esilio. Perciò tu che sei il sommo dei sacerdoti, dammi tu l'assoluzione. Dimmi che mi perdoni le colpe che ci sono nell'anima mia, fammi sentire la tua voce dolcissima che mi dà vita e perdono. Ora, mentre sfogavo, scusate, il mio dolore con Gesù, si è fatto vedere nel mio interno ed i veri sacramentali formavano come uno specchio in cui Gesù ci stava dentro, vivo e vero. Ed il mio dolce Gesù mi ha detto Figlia mia, questo specchio sono gli accidenti del pane che mi tengono imprigionato in loro. Io formo la mia vita nell'ostia, ma essa nulla mi dà. Non un affetto, né un palpito, né il più piccolo ti amo. Essa è come morta per me. Rimango solo, senza l'ombra di alcun ricambio. E perciò il mio amore è quasi impaziente di uscire, di frantumare questo vetro, scendendo nei cuori per trovare in essi quel ricambio che l'ostia ne sa, ne può darmi. Ma sai tu dove trovo il mio vero ricambio? Nell'anima che vive nella mia volontà. Io, come scendo nel suo cuore, subito consumo gli accidenti dell'ostia, perché so che accidenti più nobili e a me più cari sono pronti per imprigionarmi, per non farmi uscire da quel cuore che mi darà non solo vita in lei, ma vita con la V minuscola per vita con la V maiuscola. Non starò solo, ma con la mia più fida compagnia. Saremo due cuori a palpitare insieme. Ameremo uniti. I nostri desideri saranno uno solo. Sicché io rimango in lei e vi faccio vita, con la V maiuscola, vivo e vero come la faccio nel Santissimo Sacramento. Ma sai tu quali sono questi accidenti che trovo nell'anima che fa la mia volontà? Sono gli atti suoi, fatti nel mio volere, che più che accidenti si stendono intorno a me e mi imprigionano, ma dentro di una prigione nobile, divina, non oscura, perché i suoi atti fatti nel mio volere più che sole la illuminano e la riscaldano. Oh, come mi sento felice di far vita reale in essa, perché mi sento come se mi trovassi nella mia reggia celeste. Guardami nel tuo cuore, come ne sono contento, come mi diletto e provo le gioie più pure. Questa è la prima parte, ce n'è ancora una seconda e una terza, però è bene fare una prima bella sosta meditativa. Allora, qui chiaramente Gesù fa un discorso molto bello e anche molto profondo di analogia eucaristica. Per cui, non sapendo io se tutte le persone che ascoltano questa catechesi hanno la terminologia chiara, altrimenti non capiscono quello che c'è scritto in questo scritto, devo necessariamente, brevissimamente, fare una brevissima sintesi catechetica della dottrina eucaristica, come dire, sanzionata dal crisma di dogma di fede, perché su questi sono dogmi di fede, insegnata dalla Chiesa. Allora, il termine accidenti, cosa significa? Gli accidenti, tecnicamente, sono le modalità esteriori con cui una sostanza si manifesta, d'accordo? Per cui, appunto, nel caso del pane consacrato, gli accidenti sono la forma, il colore e il sapore del pane. Noi sappiamo che il miracolo che avviene nell'eucaristia è perché gli accidenti della sostanza pane rimangono quelli, ma la sostanza non è più il pane, ma il corpo di Cristo. Per cui, mentre gli accidenti del corpo umano, cioè, chi vedrà questa catechesi in video vedrà la mia brutta faccia, insomma, gli accidenti del corpo umano sono gli accidenti propri del corpo umano, sono ben precisi, un corpo umano ha una testa nella quale ci stanno due occhi, due sopracciglia, un naso, una bocca, due orecchie e per chi ce l'ha i capelli, d'accordo? Poi c'ha un busto, due braccia, due mani, due gambe e due piedi, d'accordo? Più gli organi genitali maschili o femminili da seconda del sesso che ha. Questi sono gli accidenti propri del corpo umano. Ora, voi capite che quando avviene la transostanziazione avviene una cosa assolutamente impossibile, per questo che si dice che il miracolo, che l'eucaristia è il più grande miracolo che Gesù abbia mai potuto realizzare, perché il suo corpo ha degli accidenti di un'altra sostanza che è il pane. E' assurda una cosa, è impossibile una cosa di questo genere, d'accordo? Impossibile. Ecco perché è il miracolo più grande che Gesù abbia commesso. Quindi, gli accidenti, adesso capiamo bene, sono appunto la materia di quello che un tempo era pane, quindi pane azimo, la sua forma, il suo colore, il suo sapore, che sono impastati adesso fusi, con la sostanza corpo di Cristo, per mezzo del quale è presente tutta la sua persona, realizzando qualche cosa di assolutamente inspiegabile. Se qualcuno sa spiegare come fa un corpo umano a stare dentro un dischetto di pane o anche dentro un frammentino microscopico di pane, alzi la mano, poi vada in Vaticano, parli con il Papa e gli dica di fare un documento di spiegazione, insomma, di questo miracolo. Quindi, questa è l'analogia. Ora Gesù cosa dice? Attenzione. Sì, io in un'ostia, negli accidenti dell'ostia, dice proprio così, no? Eh, ci sono io. Ci sono io. Veramente, d'accordo? Io formo la mia vita nell'ostia. Perché durante la consagrazione, attraverso le parole del sacerdote, Gesù ripete il miracolo dell'ultima cena di creare se stesso, cose pazzesche, in una vilissima materia di poco pane e anche, ovviamente, per quanto riguarda le altre specie, che è quella del vino, di poco vino. Quindi questo è quello che accade nel Santissimo Mistero dell'Eucaristia. Ora, questo è quanto avviene nel Santissimo Mistero dell'Eucaristia. Ora qui Gesù fa un passaggio molto delicato. Dice, certamente nell'ostia. L'ostia, però, è materia inerte, quindi Gesù è nell'ostia, ma l'ostia, il pane azimo, non gli dà niente a Gesù, perché è materia inerte, è morta per me, rimango solo, mica un pezzo di pane parla, d'accordo, o ama, cioè Gesù è lì, ma quel pezzo di pane non gli può dire ti amo, non gli può dire come sono contento che tu sei vicino a me Gesù, non gli può dire dare la mia vita per te, non gli può dare affetti infuocati d'amore, è materia inerte, d'accordo, è un pezzo di pane, attenzione, è un pezzo di pane, io dico un pezzo di pane per farci capire, perché lui in realtà non è un pezzo di pane, sono gli accidenti propri della sostanza pane che non hanno più la sostanza proprio, ma hanno come sostanza il corpo di Cristo. però Gesù è lì, spero che di essere stato il più chiaro possibile, non posso fare una catechesi sull'Eucharistia perché stiamo commentando questo scritto, questo è un passaggio propedeutico alla comprensione, dice però, ma sai tu, allora, attraverso l'ostia io realmente entro dentro un'anima, ecco, chi me lo dà quel ricambio che l'ostia non mi può dare? L'anima che vive la mia volontà, che vive nella mia volontà. E addirittura Gesù dice, attenzione, io appena scendo in quel cuore, questo è un'eccezione perché voi sapete che gli accidenti dell'ostia, ecco perché bisogna fare sempre il ringraziamento, quantomeno se uno non lo fa per amore e con amore, il ringraziamento alla Santa Comunione deve farlo quantomeno per rispetto, perché gli accidenti del pane consacrato, quindi del corpo di Cristo, hanno come tempo di consumazione medio intorno ai 15 minuti, cioè proprio il tempo in cui il nostro stomaco, insomma, lì, come dire, li decompone in modo tale che non c'è più il frammentino del pane, perché fino a quando sussiste l'accidente pane, Gesù è presente. Ora dice, qui faccio una cosa diversa, appena scendo nel cuore, ecco qua, quando fa la comunione un'anima che vive nel divino volere, gli accidenti li consumo subito. Perché? Perché Gesù brama di andarsi, come dire, a fondere con altri accidenti più nobili di quelli dell'ostia, più cari e che sono già pronti per imprigionarmi e per non farmi uscire più da quel cuore che mi darà, da quel cuore che mi darà vita per vita. E quali sono questi nuovi accidenti? Quindi rimane la sostanza corpo di Cristo e cambiano gli accidenti. Gesù spiega. Quali sono tutti i suoi atti fatti nel mio volere? Sia quelli fatti prima della Santa Comunione, sia quelli fatti durante la Santa Comunione, sia quelli fatti dopo la Santa Comunione. Per esempio, io non ho dedicato una catechesi a questo perché è evidente che chi vuole vivere nel divino volere e certamente non può non fare preferibilmente quotidianamente le ore della passione. Quindi nell'ora quarta, che è una delle più belle, a mio modestissimo avviso, anche se fare una graduatoria non è che si può molto... Però nell'ora quarta, nell'ora della passione, noi scopriamo una cosa che per esempio io non sapevo, mi incuriosiva assai e non sapevo rispondere. Lì c'è la risposta e anche la motivazione della risposta. Cioè voi sapete che un sacerdote quando celebra la Santa Messa si deve comunicare, eh? Perché se il sacerdote non si comunica la Santa Messa non è valida. È solo che mi chiedevo, ma nell'ultima cena Gesù avrà comunicato se stesso? Si è mangiato se stesso. E Gesù, nell'ora della passione, rivela, svela, dice sì sì io ho fatto la comunione. Perché però ho fatto la comunione? Ho fatto la comunione nella divina volontà. Perché? Attraverso questo gesto. Guardate quanto eravate tutti insieme. Io riparavo tutte le comunioni sacrilegie, tutte. Tutte le riverenze e le comunioni malfatte che avrebbero fatto anche coloro che pur non avendo fatto malamente una comunione, quindi proprio è stato di peccato mortale, quindi un sacrilegio, però avrebbero fatto comunioni tiepide, fredde, formali, che in quel caso è meglio farla o non farla. Che non avrebbero fatto neanche un secondo di ringraziamento. E poi ho riparato tutti quelli che potendo andare a messa e fare la comunione non si sarebbero completamente infischiati, con tutti quanti disprezzi fatti ai confronti della comunione e anche tutte le persone che non avrebbero mai conosciuto sul pianeta Terra, che esiste una chiesa, che esiste un sacramento dove Dio, quel Dio che tutti cercano e che pochi trovano, si fa nostro cibo e addirittura può diventare il nostro alimento vero e vivo della nostra anima. Quindi questi non lo sapranno mai, ma soprattutto tutte quante comunioni non fatte. Lo dice Gesù. Nel divino volere io ho fatto tutti questi atti e quindi ho presentato al Padre, come se tutti gli uomini presenti, passati e futuri, avessero fatto la Santa Comunione l'avessero fatta bene. E Gesù conclude poi questa sua spiegazione, scusate ma purtroppo per chi è allergico questo non è un buon periodo, e conclude la sua spiegazione sortando Luisa e dicendole, guarda, anche tu fai la comunione nel mio divino volere, perché quella comunione che fai nel divino volere, uff, avrà degli effetti a bomba atomica. Mi sovviene adesso in mente una cosa, e la voglio dire, insomma, anche qui su Radio Buon Consiglio, perché abbiamo assistito, io nei giorni scorsi sinceramente ho avuto una gioia del cuore, grandissima, quando ho visto i presidenti delle due Coree, del nord e del sud, stringersi la mano, addirittura a mettersi a fare giochini sulla linea di confine, che manco sapevo che esistesse, a uno che passa dall'altra parte e quell'altro che passa dalla parte dell'altro, vederli sorridenti, cioè, ragazzi, questa è tanta roba, questo è un evento non storico di più, cioè una roba di questo genere, come dire, pone un argine ad una delle polveriere più pericolose del pianeta Terra, d'accordo, perché la Corea del nord, come tutti sanno, c'è un arsenale nucleare, certamente non è una grande, ma, cioè, capite, c'è un regime ancora molto molto pericoloso, non sono per tanti aspetti, no? E a me è venuto in mente questa grande grazia, chi l'ha fatta piovere dal cielo? Chi l'ha tirata dal cielo? Guardate che fino a due mesi fa, io vedevo delle giornali, c'era, c'era, come si chiama, Kim Jong, come si chiama, il presidente della Corea del nord, che faceva le scaramucce, neanche troppo scaramucce, col presidente degli Stati Uniti, si erano avvicinati i navi, cioè, c'erano stati dei momenti pericolosi, d'accordo, questi schiacciano i buzzanti e vanno a fare una guerra nucleare, eh, succede alla fine del mondo, e da dove viene questa grazia? Io, detto fra me e voi, qualche pensierina, qualche anima figlia del divinvolere, l'ho fatto, e non soltanto agli atti fatti nel divinvolere, ma io ho sempre detto, dico, ma, e se un'anima figlia del divinvolere fa un digiuno, o fa una penita, o fa una preghiera, qual è il valore di un digiuno, di un'anima fatta nel divinvolere? È come se l'avesse fatto nostro Signore Gesù Cristo, eh, è identico, perché è un atto, che ha un valore eterno, immenso e infinito. Quale forza impietratoria c'ha davanti a Dio? È finita. È così, eh? E siccome in quest'ultimo periodo, insomma, in questi ultimi, cioè, si nota, come dire, un certo, come dire, un certo effetto propulsivo, insomma, di questa vita nella divina volontà, un certo movimento, diciamo così, no? Ecco, poi che nel movimento ci siano alcuni gesti fatti un po' sproposito, io ne ho notato più di qualcuno, amen, insomma, no? Ecco, però se non ci si muove, diceva San Giovanni Paolo II, se non ci si muove, non si cammina, bisogna anche, però, di mettere in conto, insomma, qualche scivolone, insomma, qualche zoppicamento o qualche camminata goffa, insomma, no? Va bene, però qualcosa c'è e questi comunque sono stretti le mani. E da dove viene questa cosa? Quindi, ritorniamo, la comunione fatta nella divina volontà è tanta roba. E Gesù dice, gli atti fatti nel mio divin volere mi formano i miei nuovi accidenti. E io mi sento felice di fare vita reale in un'anima di questo genere, come se mi trovassi nella mia reggia celeste, ragazzi. Allora, io leggevo, proprio prima di iniziare questa meditazione, qui veramente c'è sempre da... a un certo punto Luisa dice a Gesù, dice, guarda, io non ce la faccio più a stare senza dei te, guarda, portami in paradiso. E Gesù gli risponde, scusa, ma tu non vuoi fare la mia volontà? Dice, ma certo che la voglio fare, ma in paradiso la tua volontà c'è ancora meglio che sulla terra. Cioè, in paradiso c'è solo la tua volontà, quindi portami in paradiso così lì la ritrovo. E Gesù dice, fermi tutti. Alt, alt. Qui ci sta un abisso, perché in paradiso, guardate, questa è un'altra cosa, adesso lo cito perché se no devo fare un'altra puntata per quest'altro scritto, d'accordo? Dice così, in paradiso la mia volontà ci vive come a casa sua e è fonte di beatitudine per tutti i santi del cielo che in essa si rallegrano, perché ne vedono i prodigi, l'immensità, la bellezza, d'accordo? Ma la mia volontà in paradiso non trae nulla dai santi, ma è semplicemente un dare esclusivamente a loro. Ma attenzione, invece la mia volontà sulla terra è un'altra cosa, perché se io vedo un'anima fare un atto del mio volere, trovo una creatura piccola in cui ritrovo la mia volontà e la guardo, io ne prendo godimento infinito, ne prendo una gloria infinita, perché vedo in un posto balordo, che è diventato così come è il pianeta Terra, che è il regno del male ordinariamente, trovo una creatura al mio diritto in volere. Non è certamente la creatura che vive quella, non è tra immensi benefici, ma quando la vedo fare sulla terra o la vedo vivere nella terra, ne trago benefici anch'io, dice Gesù. Dice così, dice, volume 17, dice così. Impressionante, impressionante. E qui dice la stessa cosa, guardami nel tuo cuore come sono contento, come mi diletto e provo le gioie più pure. Sono parole dette da Gesù. Ora, il Vangelo della Messa di lunedì di questa settimana che stiamo vivendo, diceva, se uno mi ama, non osserva la mia parola, ma se uno ama Gesù, no? E sente queste cose. Cioè, io posso dare a Gesù la possibilità di essere contento, di direttarsi e di provare le gioie più pure. Sentiamo sempre dire, ed è la verità, lo diceva anche a Luisa in tanti libri dei Santi, no? Che Gesù, a forza di guardare gli esseri umani, tutti i peccati che fanno dalla mattina alla sera, tutte le ingratitudini, tutti quanti i disprezzi, in un certo modo soffre, tra virgolette, ma neanche troppe virgolette, perché ne parla in continuazione, ne ha parlato anche in fenomeni, il più famoso è il Sacro Cuore, ampiamente riconosciuti e approvati dalla Chiesa, con tanto di feste liturgiche istituite, no? Diceva, oh, amo un po' almeno tu, perché qua tutti quanti non mi danno altro che ingratitudini, freddezze, sacrileggi, mancanze di rispetto, disamori, in tutti i modi possibili, non ce la faccio più, e disse così a Santa Margherita Maria Lecoque. Ora, sapere che è possibile dare a Gesù contentezza, gioia e diletto, scusate, se qualcuno a Gesù gli vuole bene si impazzirà, si inventerà qualcosa, d'accordo? Troverà un sistema per cercare di vivere in questo modo, forza, perché l'amore desidera il bene, la gioia della persona amata, una gioia di Gesù, una gioia di Maria, per le anime innamorate, sono gioie dell'innamorato, cioè l'innamorato è più contento quando gioisce l'amato che non quando gioisce lui, questa è è la legge dell'amore, no? Proseguiamo la lettura perché se no non facciamo in tempo col termine della puntata. Comunque, ed io, in risposta Gesù che conclude dicendo guardami nel tuo cuore come ne sono contento, come mi diretto e provo le gioie più pure. Ed io, mio amato Gesù, non è una cosa nuova e singolare ciò che tu dici, che in chi vive nella tua volontà tu fai vita, attenzione, reale in essa? Non è quella, piuttosto quella vita mistica che tu fai nei cuori che posseggono la tua grazia? Attenzione, eh? Oh, che impressionante Luisa, eh? Dice sempre che fa l'ignorantella, ma qui sta facendo una distinzione molto sottile e molto importante. Dice, dai, la presenza mistica di Gesù, anche la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, quindi. Ma tu stai parlando di vita reale, signore mio? Eh, sentite che risponde Gesù. E Gesù, no, no, non è vita mistica, come per quelli che posseggono la mia grazia. Tutti coloro che sono in grazia di Dio sono, hanno l'inabitazione della Santissima realità. E quindi c'è una vita mistica, mistica, misterica, di Gesù in loro. Tutti. Però Gesù dice, no, no, non è vita mistica, come per quelli che posseggono la mia grazia, ma non vivono coi loro atti, attenzione al termine, immedesimati nel mio volere. Non hanno materia sufficiente per formarmi gli accidenti, per imprigionarmi. Cioè, gli accidenti per imprigionare Gesù. Sarebbe come se mancasse l'ostia al sacerdote e volesse pronunciare le parole della consacrazione senza ostia. Le potrebbe dire, ma le direbbe nel vuoto. La mia vita sacramentale non avrebbe certa esistenza. Così mi trovo nei cuori che, mentre possono possedere la mia grazia, ma non vivono del tutto nel mio volere. Sto in loro per grazia, ma non realmente. Ah, questa è tanta roba questa qui, eh. Ed io, aspetta un po'. Direi a Deluisa, amore mio, ma come può essere che tu possa vivere realmente nell'anima che vive nel tuo volere? E Gesù, figlia mia. Ma non sono forse vivo nell'ostia sacramentale? Non vivo forse nell'ostia sacramentale? Vivo è vero, in anima, corpo, sangue, anima e divinità. Questo, ogni cattolico decentemente formato, sa che questo è il magistero della Chiesa, questo è il dogma. E perché vivo nell'ostia in anima, corpo, sangue e divinità? Guardate, questo è stupendo questo qui, eh. Ci siamo mai chiesti, come fa Gesù a vivere in questo modo? Attenzi, qui lo spiega. Perché non c'è una volontà che si opponga alla mia? Capito? Cioè, posso viverci perché l'ostia è materia inerte? Perché l'ostia non può dire a Gesù, non ti voglio. Non mi può dire, perché non c'è una volontà sua. E qui prosegue. Se io trovassi nell'ostia una volontà che si opponesse alla mia, io non farei in essa né vita reale, né vita perenne. Ed è anche questa la causa, sentite che roba. per cui gli accidenti sacramentali si consumano quando le anime mi ricevono. Perché non trovo una volontà unita con me, in modo che vuol perdere la sua per fare acquisto della mia. Ma trovo una volontà che vuole agire, vuole fare da sé. E io faccio la mia visitina e parto. Cioè, ragazzi, rileggo il periodo perché, cioè, è veramente pazzesco. Cioè, si sarebbe da meditarci due ore su queste parole. Allora, Gesù sta dicendo. Io sto presente nell'ostia, realmente. Sta rispondendo alla domanda di Luisa. Com'è possibile che tu viva realmente nell'anima che vive nel tuo volere? Gesù dice, attenzione. Com'è possibile che io stia nell'ostia? In questo modo. Perché nell'ostia non c'è una volontà che si opponga alla mia presenza. O meglio, che si opponga alla mia. E poi dice, se io trovassi nell'ostia una volontà che si opponesse alla mia, non ci potrei stare. Ma poi aggiunge il motivo per cui gli accidenti sacramentali si consumano quando le anime mi dicevano. È perché non trovo una volontà unita con me. Cioè, capovolgiamo questa frase. Se la nostra volontà fosse unita, a quella di Dio, potremmo sperare che la presenza reale di Gesù in noi non ci abbandoni mai. Prosegue. Non trovo una volontà umana unita con me, ma trovo una volontà che vuole agire, vuole fare da sé. Ed io faccio la mia visitina e parto. Gli accidenti fanno il loro decorso naturale, 15 minuti, si dissolvono e la presenza reale di Gesù non c'è più. Guardate che fino a quando Gesù, attenzione, è, fino a quando, allora qui Gesù parla di presenza reale nell'anima che fa la divina volontà. Attenzione, ma quando uno fa la comunione, fino a quando non c'è la dissoluzione degli accidenti, c'è la presenza reale di Gesù in noi, eh? Capito? Io scherzando, scherzando neanche tanto, cioè per far capire con un'espressione ai fedeli l'importanza che quando fanno la comunione non abbiano... a Roma c'è stata delle espressioni un po' colorite, ecco, che è un momento in mente uno che non si può dire. Non abbiano tutta sta fretta di uscire dalla Chiesa, perché si portano a spasso Nostro Signore. Cioè, se uno potesse vedere, questi camminano e c'hanno gli angeli custodi inginocchiati vicino a loro, cioè inginocchiati perché devono adorare Gesù, ma al tempo stesso con le ali nei capelli, non so come sono fatto gli angeli a dirmi ma questo che sta a fare? Ma dov'è in giro? Ma che è matto? Se hai portato a spasso Nostro Signore? Ma che è sta roba? Allora, qua dice, invece, proseguo, per chi vive nella mia volontà, il mio volere e il suo sono uno solo. E se lo faccio nell'ostia, cioè vivere con una presenza reale, io in persona, molto più lo posso fare in lui. Perché? Perché la sua volontà è fusa con la mia. E c'è anche una motivazione qualitativamente superiore. Molto più che trovo un palpito, un affetto, il mio ricambio, il mio tornacolto, che non trovo nell'ostia. Lo diceva Gesù prima. Dice, sì, io nell'ostia ci posso stare, perché non c'è una volontà che soppona la mia. Ma appunto, non c'è niente da dentro. Non ci sta un affetto, non ci sta un palpito, non ci sta un ti amo, non ci sta un atto d'amore. Se entro in un'anima fusa con la mia volontà, attenzione, eh, io posso fare vita reale perché? Perché non c'è una volontà che si oppona la mia. E in più, rispetto all'ostia, io sto tanto bene qui dentro perché trovo, trovo il ti amo, trovo i palpiti, trovo gli affetti, trovo il ricambio, trovo il tornaconto addirittura, che non trovo nell'ostia. All'anima che vive nella mia volontà, le è necessaria la mia vita reale in lei, altrimenti, come potrebbe vivere del mio volere? Passaggio fondamentalissimo, eh. All'anima che vive nella mia volontà, è necessaria la mia vita reale in lei, perché questa vive del mio volere. E vivere nel mio volere è proprio possibile perché ci sono io dentro di lei. E qui Gesù fa un ulteriore passaggio, questo è rivolto a tutti noi. Io prego sempre allo Spirito Santo che illumini le nostre capoccette, anche la mia, per rendersi conto, dice, ah ma tu non vuoi capirla, che la santità del vivere nel mio volere è una santità del tutto differente dalle altre santità. Del tutto differente. Non dice un po' differente, è un'altra cosa però. No, no, del tutto differente. E, tolte le croci, le mortificazioni e gli atti necessari della vita, attenzione, eh, che non è che spariscono, ma, carità, ma, dice Gesù, che fatti nella mia volontà l'abbelliscono di più, non è altro che la vita dei beati del cielo. Oh! Ripeto, io quando leggevo i primi tempi, la prima serie di meditazioni che ho fatto, la Vergine Maria nel Regno della Vina Volontà, e sentivo queste cose, io, sarà stata una grazia di Dio, ci ho creduto subito. e ho capito più che altro subito, e dico, oi, qui, è un altro mondo. È possibile essere felici? Sì. È possibile essere beati? Sì. 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 Senza fare niente di male? Assolutamente niente di male. Senza avere nessuna controindicazione? Nessuna controindicazione. Senza correre i rischi di uscire dal seminato della Chiesa Cattolica? No, non solo che non esci dal seminato, cioè vai più dentro che più dentro non si può. D'accordo? Più dentro che più dentro non si può. Nessuno, secondo me, sta radicato dentro la quintessenza della Chiesa Cattolica, dentro la sua struttura, dentro la sua vita, così com'è, pur con tutte le sue pecche e miserie contingenti dei vari momenti storici, quanto un'anima che viene nella Dina Volontà. se ha capito che significa vivere nella Dina Volontà. Poi, se si è rifatto le sue libere interpretazioni, è un altro discorso. D'accordo? Nessuno. Gesù dice attenta, questa è la vita dei beati nel cielo, con l'unica differenza, che siccome siamo ancora sul pianeta Terra, e dobbiamo abbellirci ancora di più, perché la nostra anima è in divenire, e ogni mortificazione, ogni croce, ogni prova, e anche gli atti necessari della vita, che sono tutti santificabili nel divino volere. Oh, quando dico tutti, dico tutti, anche le cose, apparentemente, lo dice gli scritti Gesù, più insignificanti e anche più basse, che non è il caso di nominare esplicitamente, ma tutti gli atti possono essere fatti nel divino volere. Tutti. Anche quelli inconscii, come abbiamo visto nelle meditazioni precedenti. Nessuno che viene nella Dina Volontà si dimentica di andare a dormire, non servono le... Cioè, io ho visto i primi tempi che cominciavo, ci sono un sacco di bei libretti, si possono scaricare online, con tutte le preghiere, per tutti i momenti della giornata, vanno bene per capire almeno il concetto, no? Però poi, quando questa vita diventa la vita, non c'è bisogno di chi ti imbocca e ti mette le parole in bocca. Io lo dici tu a Gesù, a parole tue. Ehi, io sto per andare a dormire, io dormo nella tua volontà, perché il mio sonno sia il tuo sonno, Gesù, perché durante il mio sonno, il palpito del mio cuore, continua a dirti ti amo, il mio respiro, continui... Gesù, ti amo, d'accordo? Maria, ti amo, cioè uno se ne inventa le cose, l'ispirazione e l'espirazione, d'accordo? I miei sogni, l'attività cerebrale che genera i sogni, sia un ti amo continuato, d'accordo? eccetera. Bellissimo. Tanto per dire il dormire, questo vale per tutte le cose. E questo produce veramente una vita divina dentro l'anima che le fa. E piano piano bisogna esercitarsi in questo, però per farle queste cose, l'ho detto tante volte, cioè la vita nella divina volontà si va strutturando quando la persona perché è folgorata, perché deve smuoversi qualcosa, capisce che da qua dipende tutto e quindi veramente con calma, quindi senza patemi e senza fatica o cose di questo genere, però comincia a muoversi, comincia a lavorarci, comincia a fargli gli atti anche, d'accordo? Tutti. Comincia a guardarsi intorno, comincia a stare calmo, comincia ad avere quell'occhio, cioè qui io delle volte cerco evidentemente, bisogna cercare di spiegare, di far comprendere, quindi è importantissimo far conoscere e fare catechesi da parte mia e da parte di chiunque, desideri e abbia da Dio la grazia di poterle fare, però c'è sempre un qualche cosa che come dicevano, chi le vive le capisce bene queste cose. Allora, si noti mortificazioni, atti necessari della vita e croci ci sono in questo regno. Io ogni tanto sentivo dire a qualcuno dice, ah ma siccome un atto è una divina volontà, se io dico viene divina volontà voglio respirare, questo atto ha valore eterno in mezzo e finito, a che serve fare la penitenza? Basta anche un respiro per sconvolgere il mondo, se questo respiro è un atto divino? Eh no, perché il respiro è un atto inconsapevole, non è un atto umano, cioè il valore intrinseco e quindi la differenzazione qualitativa e ontologica tra i vari tipi di atti, è evidente che un atto supererogatorio, così si chiama tecnicamente in ascetica, come un digiuno in un giorno in cui la chiesa non te lo comanda, è un atto di un grande valore agli occhi di Dio, e non è che non si deve fare più, ma viene, ripeto, moltiplicato all'infinito, quindi ha una portata, cioè, capito, cioè, se le anime che vivono nella divina volontà ci credono, ma guarda che veramente qui fermiamo, si ferma, oh, lo fermiamo all'operare del male, non lo possiamo non fermare, in una maniera migliore che esista, perché il male lo ferma soltanto Dio, non lo fermiamo noi, non lo fermiamo noi con le nostre idee, con i nostri piani, con i nostri progetti, pastorali o non pastorali, con le nostre battaglie, con le nostre critiche, non lo fermiamo noi, lo ferma Dio, ma Dio, come dire, noi, facendo questa vita, facendo questi atti, ne liberiamo l'azione, diciamo così, dentro me è creatura, che diventa un ponte, un tramite, perché Dio stesso operi, attraverso la sua volontà, che è onnipotente, è invincibile, allora, rileggo e proseguo il periodo, ah, tu non vuoi capirlo, che la santità del vivere nel mio volere, è una santità del tutto differente, dalle altre santità, e tolte le croci, le mortificazioni, gli atti necessari della vita, che fatti nella mia volontà, l'abeliscono di più, non è altro che la vita dei beati nel cielo, e che, siccome vivono nel mio volere, in virtù di esso, ciascuno, mi ha in loro, attenzione, come se fossi per uno solo, vivo e vero, e non misticamente, ma realmente, abitante in loro, questa è un'altra cosa, no stupenda, di più, noi non dobbiamo immaginare, che in paradiso, quando andremo in paradiso, cioè, uno si potrebbe immaginare, ma sai quanta gente, che sta in paradiso, e quanti stanno intorno, al nostro signore Gesù Cristo, e chi ci va vicino a lui, chi ci va, perdonate, a baciargli un piede, ci andranno i grandi santi, che ci vado io, ma mi manco, ma mi manco, guarda da lontano, noi possiamo immaginarsi, il paradiso in questo modo, ma guardate che non è così, cioè in paradiso, ciascuno possiede Gesù, come qui spiega, come se fossi per lui solo, vivo e vero, e non ci entra nessuno, in quel possesso particolare, che l'anima di Gesù, stessa identica cosa, che accade alle anime devote, della Madonna, cioè il possesso, il godimento di Gesù, e anche di Maria Santissima, per le anime devote, sarà vissuto in paradiso, come se, la Madonna e Gesù, fossero tutti per me, e solo per me, come se non fossero di nessun altro, anche se sono evidentemente, di tutti gli altri beati, ma senza che questo, intacchi e tocchi minimamente, il mio fruire, della loro presenza, e della loro felicità, in un altro scritto, dei volumi ultimi, spiega anche perché, perché parla di virtù generativa, e bilocativa, della divina volontà, per cui, loro stessi si moltiplicano, indefinitamente, tante quante sono le anime, che possono e devono godere di loro, spero di essere stato chiaro, che siccome vivono nel mio volere, in virtù di esso, ciascuno mi ha loro, questa non è la presenza mistica, mistica, ha la stessa radice di misteriosa, d'accordo, quindi che c'è, e ci credo un po' per fede, ma non la sento bene, non la capisco bene, non la percepisco bene, no, invece è una cosa reale, la cosa reale è reale, non è che devi capire, o che devi percepire, è reale, d'accordo, la tocchi con mano quasi, capito, ecco, mi ha in loro, come se fossi per uno solo, vivo e vero, e non misticamente, ma realmente abitante in loro, e siccome non si potrebbe dire, vera vita di cielo, se non mi avessero in loro, come vita propria, e se mancassi anche, una piccola particella della mia vita in loro, non sarebbe né completa, né perfetta, la loro felicità, così, chi vive nel mio volere, non sarebbe, né piena, né perfetta, la mia volontà in lei, perché mancherebbe, la mia vita reale, che emette questa volontà, capito, è pazzesca, è vero che sono tutti i prodigi del mio amore, anzi, il prodigio dei prodigi, che finora è il mio volere, ha ritenuto in sé, e che ora vuole uscirlo fuori, per giungere allo scopo primiero, della creazione, dell'uomo, perciò la mia prima vita reale, la voglio formare, in te, ora, questa vita reale, è superiore, a quanto io, mi sembra di aver, addirittura, alla vita mistica di Gesù, nelle anime, e se uno fa attenzione, e dovremmo ritrovarne, nelle primissime meditazioni, Gesù, lo ha detto a Luisa, ma glielo dimostrava, che era, ininterrottamente, personalmente, presente in lei, quante volte, si legge negli scritti, Gesù, uscendo dal mio interno, mi ha abbracciato, mi ha rivolto questa parola, mi ha fatto questo sguardo, eccetera, lei lo chiamava, lo chiamava, lo chiamava, lo chiamava, ma Gesù stava dentro di lei, capite? Dentro di lei, la mia prima vita reale, la voglio formare in te, questa roba, è, il prodigio, dei prodigi, e finora, il mio volere, lo ha ritenuto, in sé, questa è la, come dire, è la dichiarazione, è una delle tante dichiarazioni, che Gesù sta facendo, che prima, prima, di questi scritti, questa vita, così ben spiegata, e descritta, non lo era stata mai, mai, altrove dice, cerca tutti gli scritti dei santi, tutti quelli che vuoi, lo dice a Luisa, d'accordo, troverai, molte cose scritte, sulla mia volontà, e sul farla, ma, queste stesse cose, questa vita, questi approfondimenti, queste puntualizzazioni, queste delucidazioni, ma anche queste, come dire, a volte, sconvolgenti, ecco, in senso positivo, rivelazioni, non le trovo, non le trovo, non ci stanno, ma manco San Luigi Maria Monforte, no, San Luigi Maria Monforte, illuminato dalla sua grandissima devozione, alla Madonna, abbiamo parlato a suo tempo, attraverso la chiave mariana, attraverso la mediazione mariana, si era avvicinato tantissimo, ad alcune cose, che poi, Gesù avrebbe rivelato a Luisa, ma non ha mai scritto, queste cose di questo genere, San Luigi, non ci sono, io lo ho detto tutti, dal primo all'ultimo, dalla prima all'ultima sillaba, non ci sono queste cose, d'accordo, non ci stanno, ed io nel sentire ciò ho detto, chiudo che mancano ancora due o tre capoversi, ahi amore mio Gesù, eppure mi sento così male, per tutti questi contrasti, e tu lo sai, è vero, che ciò mi serve, per più abbandonarmi nelle tue braccia, e chiedere, da te, ciò che le creature non mi danno, ma con tutto ciò, sento un alito di turbazione, che turba la pace dell'anima mia, e tu dici come formare vita reale in me, o quanto ne sono lontana, vedete come, come Luisa, aveva studiato bene le lezioni precedenti di Gesù, perché Gesù dice tante volte, appena senti formare il minimo alito di turbazione in te, sappi che stai uscendo dalla mia volontà, io non ci sto, quindi, bando non deve entrare per nessun motivo il turbamento della nostra anima, mai e per nessuno, per nessun motivo, e Gesù di nuovo, qui fa riferimento certamente a delle difficoltà, dei contrasti, inerenti alla divina volontà, sapete che ci sono state varie difficoltà nell'accettazione anche di questa allora, poi adesso qualche anno fa la dottrina della fede, non soltanto i libri tolti dall'indice, ma c'è stata una dichiarazione formale di non contrarietà degli iscritti alla dottrina della fede, che pertanto non è che soltanto una operazione tacita, gli ha abrogato l'indice dei libri proibiti, quindi si possono leggere, no, no, c'è stata una, come dire, una riabilitazione espressa, diciamo così, rispetto al provvedimento arcaico, quindi, ma è evidentissimo, insomma, che non poteva essere nient'altro che questo, no? Comunque, Gesù di nuovo interviene, figlia, non ti dar pensiero di ciò, quello che voglio è che tu non ci metta niente del tuo, che tu bidisca per quanto vuoi, si sa che tutte le altre santità, cioè, attenzione, quella dell'ubbidienza e delle altre virtù, non vanno esenti da piccineria, turbazione contese e perdite di tempo che impediscono di formare un bel sole. la sola santità del mio volere è quella che va esente da queste miserie. Pensate che bello! Vi da riflettere, non abbiamo più tantissimo tempo, sulla piccineria, argomento tipico delle esortazioni anche dei grandi santi, mi ricordo Santa Teresa Davida quando parlava nei suoi scritti di tante piccinerie che si vedevano anche tra le suore, cose piccole, l'ane caprine, si offende per una stupidaggine, le permalosità, le sciocchezze, tutte queste cose qui, proprio brutto insomma, cose piccole, piccole cose, perdite inutile di tempo, cioè, guarda, e poi, attenzione, altra frase stupenda, la mia volontà racchiude evidentemente tutti i sacramenti e gli effetti di essi, perciò abbandona di tutto o del tutto la mia volontà, falla tutta tua e riceverai gli effetti della soluzione o di altro che ti venisse negato, quindi ti raccomando non perdere tempo perché col perdere il tempo viene ad inceppare la mia vita reale che sto formando in te, doverosa spiegazione per questa frase di Gesù e anche riferimento all'inizio, no? Per cui dice, ma come gli ha negato la soluzione e ha fatto la comunione? Allora, qui bisogna essere un attimo un po' formati nel corso della storia della Chiesa, no? Allora, un tempo il sacramento della confessione è quanto di più come dire variegato si trovi nel corso della storia perché dentro la sostanza unitaria che è ciò che forma l'essenza del sacramento quindi la struttura del sacramento però l'amministrazione di questo sacramento è stata molto condizionata dai periodi storici un tempo la soluzione non era come oggi e come deve essere la norma del termine della confessione che lo è capite? Perché un sacerdote per differire o addirittura negare la soluzione deve avere delle motivazioni molto molto gravi e deve tenere conto di una serie molto ampia di circostanze capite? Ecco, prima di fare una cosa di questo genere anticamente non era così e a volte veniva negata la soluzione non soltanto cioè per esempio nei casi insomma da scuola che vanno sempre comunque specialmente di questi tempi dove le situazioni veramente culturali le storie sono completamente cambiate per cui è veramente difficile al sicuro insomma ecco quindi non soltanto nei casi diciamo da scuola il caso da scuola è un plurirecidivo in un peccato mortale che non dia nessun segno di pentimento è una delle cause che ai tempi già di padre Pio come dire imponeva al sacerdote di fare un discernimento ben attento oggi molto attento ecco perché molta gente fa delle cose gravissime senza avere la minima coscienza di quello che siano per cui è diventato tutto più complicato ma addirittura negavano la soluzione per siccome non aveva avuto la fiducia di aprirmi perché cattiva mi aveva negato la soluzione magari il sacerdote gli ha chiesto di aprirsi un pochino su un suo particolare d'accordo interiore in quel momento Luisa o non si sentiva oppure forse non aveva capito oppure forse non c'aveva niente di rilevante da dire e poi l'ha preso e non gli ha dato la soluzione quindi erano grosse mortificazioni anche però capite non dare quella soluzione quella non era una confessione fatta come dire in stato di peccato mortale per rimettersi in grazia era una confessione di devozione e a volte negavano la soluzione sono cose che noi dobbiamo come dire contestualizzare nel contesto storico no per una confessione di devozione che significa che questo non ti impediva di accedere alla comunione sacramentale come di fatto Luisa ha fatto no e come ci ha detto che ha fatto qualcuno potrebbe un attimo dire ma com'è successo Gesù poi spiega che la sua volontà questo è evidentissimo anche se è da intendere rettamente è chiaro che la sua volontà contiene tutti gli effetti dei sacramenti evidentissimo perché ogni sacramento che si celebra i sacramenti sono come sono perché perché sono atti di divina volontà cioè io non avrei mai il potere di consagrare un pezzo di pane né di dire a qualcuno che mi da sopra dei tuoi peccati perché ce l'ho perché ci sono degli atti di divina volontà che sono stati fatti in me la divina volontà ha stabilito che ci sia un sacramento che io ho ricevuto il quale operando in certe situazioni ben precise quindi dentro certi contesti mi ha abilito ad agire in persona a Cristi ed è la volontà divina che muove Gesù Cristo ad agire attraverso le mie membra quando amministro un sacramento purché lo faccia in maniera valida le condizioni previste dalla Chiesa con la materia prevista dalla Chiesa e con la forma prevista dalla Chiesa è chiaro che tutti gli effetti dei sacramenti sono tutti contenuti nella divina volontà ecco perché la Chiesa insegna dobbiamo capire bene questo principio che Dio agisce ordinariamente attraverso i sacramenti ma ne può prescindere ecco perché è possibile l'accesso alla salvezza anche di persone che non hanno materialmente ricevuto i sacramenti come ha sempre insegnato la Chiesa ed ecco perché è possibile per esempio che una persona che non abbia potuto confessarsi prima di morire che non abbia potuto non voluto confessarsi possa ricevere direttamente da Dio l'assoluzione la sta tranquillizzando dice guarda il confessore non ti ha assolto ma stai tranquilla che nel divino volere troverai gli effetti della soluzione e di qualunque altro che ti venisse negato è chiaro che qui Gesù sta anche insinuando delicatamente che tanto rigore e tanta severità che un tempo c'era era un pochino eccessiva e qui concludiamo a volte purtroppo si passa anche nella storia della Chiesa da un eccesso all'altro cioè da un estremo rigore a un estremo lassismo io tante volte ora dico ma mamma mia ma è possibile che non si trova mai un po' di equilibrio una via di mezzo adeguata insomma che si deve passare da questi estremi che sono entrambi nefasti e fuori di danni per le anime questo ovviamente non significa che Gesù stia dando la dispensa da nessun sacramento e che tutti i sacramenti sono una forma concordinaria con cui riceviamo quelle operazioni sublimi della divina volontà che sono la nostra santificazione questo lo si specifica ad abundanziam per evitare insomma distorsioni ma neanche sarebbe strettamente necessario bene detto questo abbiamo veramente finito il tempo vi do appuntamento alla prossima settimana con la mia benedizione Ave Maria